Leonardo Mezzoiuso, per te quindicesima maratona in carriera ad Amsterdam, forse una delle più belle? Sicuramente in assoluto la più bella, dopo averne fatte tante, addirittura otto a Palermo, secondo me è tra le più scadenti, se vogliamo usare questo termine, Venezia, Roma, Milano, Parigi, questa sicuramente è la più importante, la più bella, la più affascinante, vuoi perché si è corso in un percorso cittadino pieno di stracolmo, di gente che ti applaudiva, ti incitava, nessuno si lamentava, tutti ti accoglievano, poi la partenza dallo stadio è favolosa, perché un fiume di persone che escono e si avviano ad uscire tutti, uno dietro l'altro, è un fiume di persone, la cosa più bella è l'arrivo, l'arrivo poi si incomincia ad entrare uno alla volta, due, tre, dieci, venti, cento persone, ed è favoloso, l'arrivo poi è il culmine della maratona perché hai commesso, hai fatto un'impresa, hai un'avventura la maratona per cui hai fatto un'impresa, io voglio rivolgere un pensiero purtroppo a quelle persone che non sono potute venire, eravamo in tanti a dover andare ad Amsterdam, purtroppo è successo tutti, sapete tutti quello che è successo, il mio pensiero va all'oro, il mio pensiero va a Rodolfo, a Ernesto Speciale, al figliolo, al nipote, a Vitolo Giudice, a Maria Grazia Belello, che purtroppo non si sono potuti aggregare, peccato perché sarebbe stata una festa ancora più bella, speriamo la prossima volta di poter completarla meglio.